Ciao a tutti, quest'oggi vi mostrerò come costruire una porta che viene aperta con una zappa. Per farla ci serviranno semplicemente una torcia di redstone, un ripetitore e ovviamente una porta di ferro. Cominciamo con il costruire le mura che si troveranno attorno alla nostra porta. Poi andiamo in questo punto e guardando verso il pavimento mettiamo la porta. In questo modo, senza nessun segnale di redstone, sarà aperta. Poi andiamo davanti e scaviamo di un blocco sotto al lato sinistro della porta e mettiamo un ripetitore rivolto verso di essa. A sinistra di uno scaviamo fino ad arrivare a un blocco più in basso di due e mettiamo una torcia di redstone sul lato. Infine chiudiamo il tutto e con questo la nostra porta che si potrà aprire con una zappa è pronta. Da fuori questa porta è visibilmente invalicabile, ma in realtà zappando la terra che si trova a sinistra, la porta si aprirà. Per chiuderla ci basterà saltare sopra il terreno. Oppure se non è irrigato, dopo un po' di tempo tornerà della normalissima terra e chiuderà la porta. Questo succede perché la terra zappata conta come mezzo blocco e quindi non fa attivare il ripetitore dalla torcia di redstone, come invece succede quando in mezzo c'è un blocco intero. E con questo è tutto, noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao a tutti!